Con il termine flexible benefit si intendono i beni e i servizi che le aziende, quindi i datori di lavoro, mettono a disposizione dei propri dipendenti per aumentare quello che è il loro potere di acquisto. L'obiettivo è quello di migliorare quella che è la vita all'interno dell'azienda con quella che è la vita privata del dipendente. Al tempo stesso si cerca anche di migliorare la conciliazione di quelle che sono le aspettative professionali del lavoratore con quelle che sono le esigenze e le necessità strettamente correlate alla loro vita privata e alla loro vita familiare. I tali benefit non fanno parte della retribuzione, pertanto non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente e quindi non sono assoggettati né a tassazione né a contribuzione. Al dipendente viene conferito un budget di spesa figurativo da cui potrà attingere a seconda delle proprie esigenze, a seconda delle proprie necessità per scegliere determinati servizi o beni che sono molteplici e possono variare dalle casse sanitarie alla previdenza complementare, dagli abbonamenti per teatri o cinema al rimborso per le spese sostenute per l'educazione o l'istruzione dei propri figli.